ciao ragazzi come va? io abbastanza bene oggi ho fatto un servizio fotografico uno shooting con abili da sposa e questo è il trucco che mi ha fatto la mia fantastica amica costanza di corrado che collabora con noi da body file studio molto bello mi piace moltissimo spero piaccia tanto anche a voi e faccio questo video perché vi volevo parlare di un trattamento di cui vi ho anticipato il botox per i capelli tutti conosciamo il botox per il viso il botox per distendere le rughe il botox per le ciglia che tende ad incurvare le ciglia e adesso c'è anche il botox per i capelli allora perché ho fatto questo botox per i capelli perché in effetti avendo io un capello né liscio né riccio ma ondulato avevo proprio voglia di avere un capello un po più disciplinato quindi di eliminare quell'effetto crespo che quando non ho il tempo di asciugarmi i capelli è davvero fastidioso e brutto a mio parere perché dà quell'aspetto di poco curato e dato che non ho il tempo di passare piassa di passare sempre spazzolo e fono mi sono fidata ed ho voluto provare questo trattamento che si chiama botox che effettuano da new air da new air sì da new air e vi devo dire che ho aspettato appunto la prima occasione per vedere il risultato di questo trattamento oggi ho fatto questo servizio fotografico con 50 gradi tasso di umidità al 70 per cento e i miei capelli praticamente dietro erano completamente bagnati proprio acqua erano completamente inzuppati e adesso sono ritornata a casa e ho sciolto i capelli e i capelli sono come potete vedere disciplinati luminosi quindi direi che il trattamento funziona è differente dalla keratina perché la keratina è lisciante mentre questo è solamente disciplinante e leva l'effetto crespo quindi ragazzi cosa dire trattamento botox ai capelli approvato alla prossima ciao ciao